Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, fase, 2, 3, 4, 1 e rivoluziamo da capo, 4, 1. La facciamo con quanto alto. E cerchiamo di mostrare questa pianta. Grazie. Grazie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3,钻ar. Atchiamo per 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12. E cucaraccia e ster, cambiamo. 3 3 4 1, 2, 4, 2, 4, 2. Adhemana, 3, 4, 2. 2, 3, 4. 2, 4. Posta a sinistra. Posta a destra. A in duende. Posta a sinistra. Stai a sinistra. 1,2,3, 4. 2,3, 115. Posta a sinistra, un臣1,2,3,4. ah iss